I dati circa l'occupazione femminile e i danni della pandemia nei confronti delle donne sono allarmanti, ma il governo davanti al question time di Fratelli d'Italia di fatto non risponde. Con una campagna vaccinale in corso ancora non abbiamo certezze né sulla ripartenza delle scuole né sulle soluzioni per garantire i posti ed occupazione a tutte le donne lasciate purtroppo sole in questi mesi e persone che hanno maggiormente subito i danni delle restrizioni e della pandemia stessa.